Nero e oro con tocchi di turchese e arancio, Absolutely Fashion, sono i colori che dominano la collezione di accessori disegnata da Anna Dello Russo, sacerdotessa barese del Glamour, per la catena di abbigliamento low cost svedese H&M. In versione Madonna, con tacchi vertiginosi corpetto di pelle, è lei stessa a presentare la collezione in un video che sta impazzando sul web. Detta il decalogo del suo stile ricercato sino all'esagerazione, di un'opulenza che fa da contrapunto alla sua magrezza, perché solo una donna grissino come lei appunto può osare indossare più di 10 bracciali, occhiali dorati e accessori tempestati di pietre rigorosamente false. Scarpe, borse e gioielli Glam creati da Anna Dello Russo arriveranno nei negozi H&M dal 4 ottobre e c'è da scommettere che faranno la fila per comprarli. Voce da maschiaccio, cento barese anche quando parla inglese, maniaca dello shopping e dell'ordine con un guardaroba sterminato al punto da richiedere un intero appartamento, da giornalista di moda Anna Dello Russo è diventata icona del fashion. Prima stylist, poi direttore di Vogue Uomo a Milano e ora di Vogue Giappone, sa anticipare le tendenze moda. Il nuovo must dunque sono le creazioni firmate ADR, Anna Dello Russo, che avranno presto un posto d'onore nel guardaroba di ogni fashion victim.